io pirla rimango sotto l'acqua però credete che d'estate ci vuole un po d'acqua ci stava più bene i ragazzi hanno proprio dell'acqua guardate Piove? 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 Piove solo acqua purtroppo se pioveva birra mi sarebbe fatto prestare un imbuto eh? non ho capito mamma mia dimmi dimmi mi devo togliere da sotto l'acqua perché sono l'acqua sto bene io? sto bene io? sto bene sto bene io? tu sei benissimo grande una che ha capito si sta freschi una favola meglio ha smesso è meglio il gusto di bagnata ho speranze? speranze? ho speranze io? ormai è andato? ma ragazzi è solo un po' ma non avete mai preso l'acqua in moto? pronto? pronto? ma non siete seduti sulla panchina? e non siete seduti sulla sella? io faccio finta di essere in moto meh 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 questo faremo un furiondo di quelli bestiali perché non lo posso mettere sul video ragazzi chiedo scusa scusate sto bene io? si domandolo a loro non sto benissimo non sto benissimo saranno per i capelli? saranno per i capelli? salve 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 io sto bene? io sto benissimo il capello è il numero qua eh vabbè dica qualcosa dica qualcosa dica qualcosa dica dica qualcosa vieni qua il genere non dico di sederti che è tutto bagnato ti devo dire che sei tutto sudato eh sono tutto sudato perché fa caldo fa caldo ho capito ti sta andando anche alla forfola guarda hai visto? e ti sta crescendo i capelli continua così quindi dovrai andare al parrucchiera devi andare al parrucchiera no ma io voglio sparare i soldi voglio sparare i soldi si voglio sparare i soldi si voglio sparare i soldi allora ascoltate ragazzi il giovane qua viene da? Bologna 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 San Giovanni Persecetto avete capito ragazzi hai fatto due chilometri tre chilometri due chilometri una persona all'altra questa è la giacca questa è la giacca che vi abbiamo già fatto vedere prima cosa sta? cosa sta? cosa sta? cosa sta? ecco qua non viaggiano i ragazzi non viaggiano no 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 per niente un chilometro al mese un chilometro al mese al mese mi chiami? Claudio Claudio e sono con la moglie che si chiama La Rossa La Rossa La Rossa la rossa del nome o del cognome? no 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 la rossa come soprannome ah come soprannome? soprannome si chiama Giorgia 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 e ragazzi dove è la Bologna? la Bologna da fettare? la mortadella la mortadella la mortadella la mortadella la mortadella hai capito? e i tortellini? pure i tortellini a casa ma la rossa le fa i tortellini? i tortellini e i cappellacci e anche i cappellacci ma sta la rossa fa di tutto di più ma i tortellini con la zucca? con la carne con la carne con la carne non mi autoinvito e se volete a casa vostra? certo quanto ti conviene io mangio quando? non ce ne frega niente dove mangia uno mangiano 20 mi faccio dare il nome indirizzo il numero di telefono codice IBAN soprattutto tutto con il fin no il codice IBAN prendi male non c'è un cast codice IBAN zero ma guarda che c'è la fin si c'è anche quella quella la troviamo la fisarmonica cosa avete capito? la fisarmonica esatto quella che suona così non quella che suona così non quella che suona così vabbè mi pronoti un vagoncino per il centro salute mentale? te lo pronotterò ti saluto grande 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 veleno vabbè vabbè io la leggo qua grande ecco lì la rossa quella che fa i tortellini vedi qua venti 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 si sta mangiando l'uva la rossa cos'è che dico io? non lo so parlava lui ti voglio bene non l'hai mica capito ti voglio bene anche una di quelle che fa un chilometro al mese anche io faccio un chilometro al mese anche io faccio un chilometro al mese ma dopo ragazzi ci vediamo domani si 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 domani romperemo ancora più e padre ok ciao grazie bene questo è quello che succede ogni tanto nel backstage è giusto per divertirsi ragazzi mi raccomando continuate a seguirmi lasciate un mi piace un commento e se volete potete iscrivervi al canale vi lascio un abbraccio a tutti che dire ciao alla prossima